il 2 a 1 degli Stinks, tutto riaperto, i giochi leggermente riaperti dopo questa vittoria larga nei confronti del gioco. Diciamo che la partita per comandata ci ha servito a noi per dare un segnale a noi stessi prima di tutto, contro l'avversario, perché avevamo due prove non buonissime, loro ce sono messi in difficoltà su vari aspetti, sono stati bravi in questo, non sono stati tanto bravi a contrastare le loro caratteristiche, le loro qualità, che sono evidenti. Oggi ci hanno messo molto più energia mentale e fisica, quindi molta più adrenalina, ci vediamo nel corpo, eravamo convinti e non è la prima volta che quando siamo con i spagnoli al muro riusciamo comunque a trovare una buona partita. Detto ciò dobbiamo resettarla subito, già stasera abbiamo cominciato a recuperare energie perché abbiamo un'altra battaglia, sarà fondamentale per lì arrivare carichi e pronti per riaprire definitivamente questa serie, perché è vero che siamo 2-1, è vero che cerchiamo in casa, ma siamo da gioco ancora loro. Nel momento in cui andremo 2-2 saremo pari e allora lì è tutto possibile. Per il momento dobbiamo essere concentrati e carichi, motivati per vincere assolutamente l'anno 1. e da lì facendo le cose che abbiamo fatto stasera con molta energia e mentalità e poi vedremo.